Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video e ben ritornati su Brawl Stars. Oggi completeremo un po' di missioni. Chiamandomi al telefono. Quindi è stato un po' macello, però spero che ora non metto. Andiamo. Intanto iniziamo già con stecca che devo causare un sacco di danno e vincere 6 partite in 2. Intanto ho cambiato un po' di giorni fa ho cambiato un po' di cose. No, no. 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 Oh, il mio record è di ho perso sui 200 trofei. Perfetto. Per me è pochissimo. Per me è... Per me è pochissimo. Non, no. Pianchiamo. Per me è pochissimo. Per me è pochissimo. mi volevo prendersi qui perché l'unica cosa che sto facendo da due ore perfetto che devo fare come una volta che praticamente dovevo perdere 2000 trofei per trovare un nuovo proler e vincere un casino io 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 non ho parlo a voi ma dai vabbè forse con stefano dobbiamo perdere le speranze con mortis proprio annulliamoci un po dai stanzi gioco a però con questo aggiornamento hanno messo un sacco di cose non so se ve lo avevo fatto vedere hanno messo anche la voce a bernie sentitela benissimo ok abona capito Ora so che muoio Ovviamente devo morire Lo sapevo E io con quella Il grado 20 perdo sempre Il problema Ti sceglio tutti Perché Questa vita Ho capito Che le persone Mi vogliono male E ancora In 6 minuti Non ho ancora Terminato nessuna Nessuna Missione Non ce ne sono Quando Ho la questione Di uccidere qualcuno Non riesco mai Di uccidere Di uccidere Di uccidere Di uccidere E vabbè Ok ora mi sono stufato Non gioco Per almeno 30 anni Allora Per questo video Concludo qui Che il video Vi sia piaciuto Ovviamente no Andatevi ad iscrivervi A questo mio canale A questo mio canale youtube A mio canale di tiktok Mi chiamo Cine Cine E se volete essere Salutati In un prossimo video Scrivete 2008 E basta E basta Questo almeno O io Leggo i commenti E capisco Chi devo salutare In un prossimo video E con questo E con questo Concludo qui E vi auguro Una buona giornata Ciao Ciao